furto al media world rubati apparecchi elettronici per alcune migliaia di euro termina corrice nardella l'edizione 2021 della festa dell'unità roff positivi numeri e presenze novità in arrivo per il 2022 sport esordio negativo per la vis la vl presenta la nuova maglia una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news in apertura parliamo di cronaca e del furto messo a segno nella fine settimana ad opera di ignoti malviventi al media world di pesaro diversi gli apparecchi elettronici trafugati per un valore complessivo di alcune migliaia di euro il servizio si aggira intorno ai 10 mila euro il valore complessivo del colpo messo a segno nel punto vendita pesarese della catena di negozi di elettronica media world il furto si è consumato nella notte tra sabato e domenica quando la banda di ladri è riuscita ad introdursi all'interno del plesso commerciale forzando una finestra posta sul retro dell'edificio diversi prodotti scomparsi che compongono la cospicua refurtiva dei malviventi macchine fotografiche computer e altri apparecchi tecnologici di diverse marche presenti sul mercato il furto subito è stato denunciato soltanto all'arrivo dei dipendenti per l'apertura dell'attività segnale che gli stessi malviventi potrebbero aver disattivato o messo fuori uso il sistema di allarme del plesso sul caso sono intervenuti e indagano i carabinieri della stazione di borgo santa maria che per risalire al numero esatto e all'identità dei soggetti che si sono introdotti nel punto vendita potranno anche visionare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sia all'interno che sul perimetro esterno dell'edificio il colpo al media world si aggiunge quindi alla lista di furti segnalati in città di recente e nei giorni antecedenti al weekend diversi sono stati gli episodi registrati nelle abitazioni private come quello che ha visto una donna denunciare la sparizione di gioielli brillanti per un valore di alcune migliaia di euro dal piano inferiore della propria abitazione i malviventi si sarebbero introdotti in casa nonostante la presenza della proprietaria con la quale però non ci sono stati contatti e sono in corso gli accertamenti per verificare la responsabilità e l'entità dei danni al cavalca ferrovia di viale 24 maggio dopo che nel pomeriggio di oggi un camion troppo alto ha causato la perdita di alcuni pezzi del soffitto l'assessore all'operatività del comune di pesero enzo belloni ha affermato che non esiste pericolo per la stabilità e per la percorrenza del ponte sono state effettuate tutte le verifiche del caso da parte del personale degli ingegneri e dei vigili del fuoco sul posto era presente anche la polizia locale e il camionista è stato identificato rimarrà chiusa per 30 giorni la discoteca baia imperiale di gabice il provvedimento è stato firmato dal questore di pesaro michele todisco in seguito a diversi episodi registrati all'interno e all'esterno del locale il fatto scatenante è stata l'aggressione ai danni di una pattuglia dei carabinieri avvenuta giovedì scorso mentre i militari cercavano di proteggere una donna presa schiaffi dal compagno l'uomo un ventottenne del ravennate si è scagliato contro di loro con percosse e minacce il comandante della pattuglia ferito dalle collutazioni ha poi arrestato l'aggressore condannato a dieci mesi di reclusione lo stop all'attività della baia imperiale per un mese arriva in seguito al provvedimento che non aveva già disposto la chiusura per due settimane a cavallo del ferragosto a causa di disordini e balli non consentiti parliamo ora di sanità con gli aggiornamenti relativi all'andamento dei contagi da covid 19 sul territorio regionale come ogni lunedì il bollettino del servizio sanità registra una diminuzione di nuovi casi e dei tamponi processati nelle ultime 24 ore rispetto ai 724 test molecolari e antigenici analizzati sono 46 i nuovi casi di covid 19 segnalati nelle marche di questi 31 sono stati riscontrati nella provincia di pesaro e urbino sempre nelle ultime 24 ore è stato inoltre notificato un nuovo decesso legato al covid si tratta di una donna di 91 anni che risiedeva agli esi e ora cambiamo pagina e parliamo di politica perché si è conclusa ieri sera con il dibattito tra il sindaco di pesaro matteo ricci e quello di firenze dario nardella l'edizione 2021 della festa dell'unità vediamo il servizio si è conclusa l'edizione 2021 della festa dell'unità di pesaro domenica sera nella cornice di piazza del popolo è andato in scena l'ultimo appuntamento in programma ovvero il dibattito che ha visto protagonisti il sindaco di pesaro matteo ricci e quello di firenze dario nardella la serata intitolata l'italia veloce il pd dei sindaci moderata dalla giornalista della repubblica giovanna casadio ha visto i due primi cittadini impegnati in un dibattito che ha toccato diversi temi a partire dall'attuale situazione in afghanistan e dei profughi in arrivo per passare poi a temi di politica locale nazionale legati al covid tra cui la campagna di vaccinazione il green pass la ripresa delle scuole e l'agenda economica che il paese dovrà seguire nei prossimi mesi spazio anche per le riflessioni come l'alleanza con i pentastellati su cui il partito democratico dovrà interrogarsi anche in previsione delle elezioni e della scelta del nuovo presidente della repubblica a tracciare il bilancio dell'edizione 2021 della festa dell'unità è stata la segretaria provinciale del pd rosetta fulvi questa edizione 2021 della festa unità pesaro è stata una bella iniziativa e il bilancio che faccio è positivo innanzitutto perché dopo la pandemia che ancora non si è purtroppo conclusa però ecco è stata un'iniziativa per ritornare alla normalità e quindi per riprendere la socialità e per fare confronto dibattito informazione politica sono state giornate molto intense con degli ospiti di livello nazionale utilizzando ovviamente la presenza di tutti i nostri riferimenti e quindi dai sindaci ai consigli regionali ai parlamentari ecco una veramente una carellata di argomenti e di temi che ritengo possono essere stati veramente importanti per la comunità e apprezzati ecco questo è il contributo del partito democratico per salutare la ripresa della normalità e per fare in modo insomma che ci possa essere sempre questa per presenza e attività politica per questo è uno dei modi migliori per fare politica e ce lo insegnano i nostri volontari tanti uomini e donne soprattutto giovani che dimostrano con la generosità e la passione che hanno dimostrato e rinunciando magari ecco anche ai loro impegni e alle loro attività dedicandole al partito di voler riprendere la politica ripartendo dalle persone e dimostrando con l'esempio che stare tra la gente vuol dire anche questo cioè donare e mettersi a disposizione il confronto per poter insieme non solo dare delle risposte ma soprattutto raccogliere le domande che tanti cittadini ci hanno posto quindi un bel risultato e speriamo che questo possa essere di buon auspicio ed è stato tracciato questa mattina il bilancio conclusivo della 42esima edizione del Rossini Opera Festival durante la conferenza sono state inoltre elencate alcune novità in programma per il 2022 e anche per il 2023 4 nuove realizzazioni sceniche e un totale di 25 appuntamenti 8.544 presenze il 52% delle quali provenienti dall'estero e un incasso registrato dal botteghino di oltre 650.000 euro le visualizzazioni qualificate raccolte dagli appuntamenti in streaming sono state più di 17.800 mentre per la cerimonia conclusiva sono state circa 30.000 le persone raggiunte dai canali video i numeri presentati per il bilancio della 42esima edizione raccontano la visibilità e il successo conquistati dal Rossini Opera Festival 2021 partendo proprio dalla fine il sovraintendente Ernesto Palassio ha sottolineato la soddisfazione per la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al concerto finale della manifestazione mentre il Presidente del ROF Daniele Vimini ha ricordato i dettagli sulle presenze registrate agli spettacoli orgogliosissimi di aver avuto per la prima volta al ROF un Presidente della Repubblica che a quanto pare è stato anche molto soddisfatto del nostro concerto viste le parole che poi ha rivolto al direttore Michele Spotti dicendogli che era stato il concerto più bello della sua vita essere riusciti a superare diciamo del 50% gli obiettivi di anni importanti di anni con tantissimo pubblico con meno del 50% dei posti a sedere a disposizione è stato un piccolo miracolo dato dall'organizzazione dato dal fatto che purtroppo non l'Asia e gli Stati Uniti per motivi contingenti però tutto il resto del pubblico straniero soprattutto è tornato al Festival e quindi questo anche in termini di ricaduta per la città ma anche in termini di funzione internazionale di questo Festival diciamo è un punto riconquistato in tempi veramente complessi Gli occhi sono ora puntati sull'organizzazione della prossima edizione per la quale sono in serbo diverse novità a partire dalle location con l'utilizzo di tre diversi teatri la Vetri Prigo Arena, il Teatro Rossini e l'Auditorium Scavolini Per il livello di qualità del lavoro e di necessità degli spazi un Festival come il nostro deve lavorare su tre sedi per lavorare bene o molto bene e su questo abbiamo lanciato anche la prospettiva dal 2023 quando contiamo di recuperare oltre al Palazzo Scavolini anche l'Auditorium Pedrotti con più posti quindi anche con la riapertura della galleria quindi raggiungendo sostanzialmente una capienza molto simile a quella del Teatro Rossini e quindi di poterci permettere nelle tre date che poi come è noto si avvicendano di tenere un Festival a questo punto tutto nel centro della città quindi insomma percorribile a piedi tra Teatro Rossini, Palazzo Scavolini e Auditorium Pedrotti e anche l'obiettivo che siamo dati in chiave nel 2023 proprio per questo ritorno in centro con teatri gli elementi più piccoli rispetto alla capienza ad esempio della Vetri Frigo di fare uno sforzo economico, organizzativo importante ovvero di riuscire ad aggiungere una replica il che vuol dire sostanzialmente allungare il Festival di tre giorni Per l'edizione 2022 confermate anche due nuove produzioni liriche Abbiamo ufficializzato il fatto dei titoli che sono le comptorie, nuova produzione, hotello, nuova produzione e ripresa di La Gazzetta con i direttori e i registi Per ora ci siamo fermati a loro, faremo anche un concerto che festeggerà i 40 anni di ROF di Pierluigi Pizzi Grande partecipazione alla manifestazione lanciata da cittadini in dialogo a sostegno delle donne afghane Sabato pomeriggio in Piazzale della Libertà si sono radunate decine di persone per il sit-in dal titolo Le donne afghane esistono, together we stand che aderisce all'iniziativa promossa a livello mondiale da Economy of Francesco Numerosi componenti delle istituzioni intervenuti a dimostrazione della sensibilità trasversale su questo tema Erano infatti presenti i consiglieri comunali Redaelli che compare anche fra gli organizzatori del sit-in Vanzolini, Conti, Giacopini insieme al presidente del consiglio Perugini e al vice Andreolli Sono intervenuti inoltre l'assessore alla crescita del comune di Pesaro Giuliana Ceccarelli che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione insieme all'assessore regionale Stefano Aguzzi che attraverso un messaggio ha spiegato il lavoro che la regione Marche sta mettendo in atto al riguardo Lisetta Sperindei, consigliera comunale pentastellata di Pesaro ha lasciato il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle diverse le posizioni e le linee politiche sostenute dal partito per le quali la ormai ex consigliera ha affermato di non sentirsi più rappresentata ultime in ordine cronologico le tematiche relative a Green Pass e vaccinazione anti-Covid Sperindei passerà ora al gruppo misto di minoranza continuando a collaborare con comitati e cittadini Emanuele Gambini, consigliere comunale di Pesaro e atleta della società ASD Gabbiano si è giudicato in quest'ultimo fine settimana con la competizione che si è svolta a Weiden in Germania il titolo di campione del mondo nella gara di Biatol Sport che unisce corsa e nuoto nella categoria Master 50+. Il giorno precedente Gambini aveva invece sfiorato il podio nella gara di Triatol Continuano le celebrazioni per il settecentenario della morte di Dante Lighieri Mercoledì 1 settembre alle ore 17.30 la Biblioteca Oliveriana presenterà nel suo cortile la conferenza La gente nuova e i subiti guadagni Dante è sociologo e scienziato politico tenuta dal presidente dell'ENT Olivieri il prof Enrico Battistelli Un'occasione per esplorare lo stretto rapporto che lega l'opera di Dante alla dimensione politica e sociale della sua epoca Per partecipare all'evento è richiesto il Green Pass ma non la prenotazione E giovedì 2 settembre alle ore 21 presso il cortile dei musei civici di Pesaro in occasione della ricorrenza della liberazione di Pesaro dai nazi fascisti verrà presentato il libro a cura di Nicola Mattoscio Brigata Maiella, Resistenza e Bella Ciao Combattere cantando la libertà Il volume è una riflessione a più voci su una delle più straordinarie esperienze storiche della Seconda Guerra Mondiale In caso di maltempo l'incontro si svolgerà presso la sala del Consiglio Comunale E ora passiamo alla pagina sportiva del nostro telegiornale parlando di calcio e del debutto in campionato della Vis Pesaro che nel primo match della stagione è stata sconfitta fuori casa dal Sena per 3 a 0 Maggiori dettagli in questo servizio di Edoardo Razzi Se il buongiorno si vede dal mattino, in casa Vis Pesaro è ancora notte fonda Il debutto stagionale dei Biancorossi non è stato certamente dei migliori uscendo infatti sconfitti dal campo della Robursiena con il risultato finale di 3 a 0 per gli avversari La squadra allenata da Mister Banchini parte con il piede sbagliato andando sotto di una rete dopo appena un minuto dal fischio d'inizio del match Una Vis ferita nell'orgoglio dal gol subito e che nei successivi minuti tentenna a creare gioco affidandosi per lo più alle giocate dei singoli non riuscendo però a trasformare in rete le poche occasioni create Il raddoppio dei bianconeri non si fa attendere e al 22esimo del primo tempo il Sena si trova avanti di due lunghezze con il 2 a 0 siglato in favore dei padroni di casa La Vis cerca una reazione ma l'assalto alla porta difesa da Lanni non porta il risultato sperato A 7 minuti dalla fine del primo tempo l'episodio che cambia definitivamente la partita Capitan Gavazzi, già munito trattiene il capitano avversario lanciato in rete e il secondo giallo è soltanto una formalità Con l'espulsione di Gavazzi dunque la visse prosegue in 10 per tutto il resto della partita Nella ripresa i biancorossi provano a cambiare qualcosa tatticamente ma il nuovo assetto produce poco o nulla fino a quando non arriva puntuale la seconda rete di Varela che aggiorna definitivamente il punteggio sul 3 a 0 Una visse spenta e con troppo individualismo si arrende all'artemio Franchi di Siena e al termine del match lo stesso allenatore biancorosso Marco Banchini si assume le responsabilità ammettendo di aver sbagliato e riconoscendo che la partita è stata condizionata soprattutto dal gol preso poco dopo il calcio d'inizio Per i biancorossi ci sarà ancora tanto da lavorare soprattutto in vista della prossima partita di campionato che vedrà la Vispesaro affrontare allo stadio Benelli il Pontedera un'altra squadra toscana reduce dal pareggio per 1 a 1 contro la Carrarese Ed è stata presentata oggi presso il negozio Prodi Sport la nuova divisa che accompagnerà il precampionato 2021-2022 della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro A sfilare con la nuova maglia da gioco in edizione limitata sono stati due nuovi acquisti dell'ultima sessione di mercato il playmaker Davide Moretti e il centro Gora Camara che per l'occasione hanno rilasciato le prime dichiarazioni da giocatori ufficiali della VL Vediamo Prodi Sport riferimento per la città soprattutto nel merchandising e nella vendita dei prodotti della Victoria Libertas Carpegna Prosciutto Basket Pesaro quest'oggi presentazione ufficiale della maglietta che accompagnerà la Victoria Libertas nel suo cammino di precampionato fino all'inizio della nuova stagione Dietro di me potete vedere le maglie che sono state disegnate dai grafici di Pesaro per la RA Sport in cui vengono riprese le location più importanti della nostra città sia nel colore giallo che è quello fedele nel pantone della Carpegna Prosciutto sia nel colore tradizionale bianco Camara è il pivot che la Victoria Libertas ha contrattualizzato quest'anno e qui in versione di modello top model quest'oggi per la presentazione della maglia ufficiale precampionato ti piace questa maglia? Sì, 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 mi piace tanto perché praticamente ripresenta la città poi è una cosa piacevole a indossare questa maglia e andare in campo quindi mi piace molto Ecco, i tifosi chiaramente aspettano da te grandissimi risultati in questi giorni di preparazione prima Carpegna e Borgo Pace come sono andate le cose? Il rapporto con i compagni e col nuovo coach? Cioè, non ho avuto tanta difficoltà a avere rapporti con i miei compagni di squadra anche con i miei compagni di squadra perché appena arrivato mi hanno aperto tutte le porte mi hanno fatto capire da subito come va come infiltrarmi nel gruppo poi non è stato tanto difficile per me andare in avanti con loro e a giocare contro Ferrara l'ultimo partito quindi bene, bene Ben arrivato ben trovato dopo i problemini che hai avuto sei subito uomo immagine Grazie sto bene sono felice di essere qua questa è una grande parola però vi ringrazio per il caloroso benvenuto e sono veramente contento di essere qua Senti, la tifoseria l'anno scorso non è stata presente alla Vitri Frigo ma la conosci bene sai quali saranno le aspettative che ti attendono? Sì, no, assolutamente so bene che tipo di tifosi ci sono da queste parti e spero di poterli vedere al palazzetto il più numerosi possibile Nella maglia precampionato che tra l'altro se vuoi fare vedere ed esibire davanti alle telecamere visto che stai facendo il modello oggi ci sono varie location molto importanti di Pesaro hai già avuto modo di visitare la città? Ti è piaciuta? Sì, no, io comunque a Pesaro sono venuto con la nazionale ho fatto la prima edizione del mio camp quindi comunque la conosco molto molto bene oltre al fatto che ci ho giocato veramente tantissime volte con le giovanili e con le squadre di Serie A quindi è una città che mi piace molto per il mare per proprio tutti questi riferimenti che ci sono anche sulle maglie quindi sono contento di essere qua e sono sicuro che mi ritroverò bene anche con la città Hai già avuto modo di interagire con i compagni? Sì, 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 no sono stato a Borgo Pace gli ultimi due o tre giorni sono dei ragazzi super mi sono trovato bene quindi è un buon punto di partenza e speriamo ecco di amalgamarci di star sempre meglio insieme per arrivare all'inizio della stagione il più pronti possibile Parliamo ancora di sport e di un flash che interessa il calcio a 5 perché come annunciato poco fa la Champions League sbarcherà a Pesaro di tal service ospiterà infatti il girone di Champions dal 26 al 31 ottobre e i biancorossi affronteranno importanti squadre avversarie in ordine di fascia i ragazzi di Mister Colini sfideranno i kazachi del Kairat Almaty i russi del Tumen e i gechi del Pelzen tre partite che decreteranno le tre squadre che accederanno al turno successivo da decidere invece la location che visti i requisiti della UEFA in termini di impianto non potrà essere il Palo Lino Pizza soddisfazione e gioia espresse dal presidente Lorenzo Pizza per la decisione dell'UEFA di portare a Pesaro il girone di Champions League una grande festa dello sport un bellissimo inno alla vita è quello che si è celebrato ieri pomeriggio alla palla di pomodoro e che ha visto protagonista il campione pesarese di taekwondo Marco Manzini il quale di recente si è giudicato due medaglie d'argento in competizioni nazionali e internazionali e che ieri è stato premiato dal Comune e dal Sindaco di Pesaro Matteo Ricci vediamo è un riconoscimento a un grande pesarese è intanto un grande amante della nostra città è un esempio soprattutto per questi ragazzi al di là dei premi che ha ottenuto in una disciplina molto complicata in una condizione fisica nella quale con difficoltà ogni giorno riesce a stare in piedi in equilibrio è un esempio di vita perché ogni giorno trova la forza per fare un passo avanti per ottenere un risultato sportivo in più ma soprattutto ogni volta con la sua forza contagiosa di vivere aiuta tante altre persone soprattutto chi ha l'onore di essere suo amico ad andare avanti con determinazione siamo contenti di aver scelto questo luogo perché questo è il luogo della premiazione degli sportivi tutti i pesaresi sanno che qui si fanno le feste sportive quando c'è qualche successo delle nostre squadre o delle squadre nazionali e quindi ci tenevamo a questo riconoscimento le tante persone che ci sono dimostrano l'affetto nei confronti di Marco e come durante la sua vita prima e dopo l'incidente che ha avuto ha costruito rapporti di amicizia che oggi lo rendono davvero unico quindi forza Manzini e ragazzi tutti coloro che fanno sport e non solo coloro che fanno sport non abbattetevi davanti alle difficoltà e se avete qualche dubbio andate a parlare con Marco emozioni molti perché ho visto molta gente che mi vuole bene e per me è molto meglio che vincere una medalla vedere la gente che mi stima e questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV questa sera alle 21.15 un nuovo appuntamento con l'arte della bellezza protagonista di questa puntata sarà Erika puntata che potrete appunto seguire in prima serata su Rossini TV canale 633 alle ore 21.15 e in replica negli orari e nelle giornate indicate nel cartello vi ricordiamo inoltre che da mercoledì 1 settembre il nostro telegiornale Rossini News andrà in onda con un'unica edizione alle ore 20.40 sul canale 633 e in diretta anche sulla pagina Facebook di Rossini TV e l'informazione torna puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con una nuova edizione della nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini grazie per averci seguito con il nostro telegiornale un buon proseguimento di serata su Rossini TV grazie a tutti